si sorrino bravo ci stavo facendo vedere le coroncine ma non ci sa ma l'amico ok l'amico è un vincito oh mio dio mi ha scicchionato anche lui no in realtà mi ha tolto solamente 20 così vi imparate quello stava flexando le corone ora gliele flexiamo noi all'interno che ho visto del cespuglio beccati ste coroncine quanti ce ne abbiamo quanti ce ne abbiamo quanti ce ne abbiamo 21 oneste ma guardali qui ma che diavolo ti fa il tesoro questi qui signorino pure una telefiuffa all'interno dell'acqua occhio alle più selvatico non ci dovrebbe essere nessuno di noi salve signor più selvatico non ci provare rimani a mollo là dentro ma che diavolo c'è qua dentro una riunione di famiglia vieni qua vieni qua spadermino spadermino bravo risalta 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 cucciolino o che arriva anche l'amico questo è un mio ma che diavolo come fa non vede ma che diavolo riprenda sto playerino come ha fatto a non vedermi di spammo di spammo di spammo di spazio non ci provare cucciolo sono qua dentro occhio occhio che arrivano gli amici dobbiamo capire subito immediatamente dove sono ma soprattutto perché ciavolo erano tre playerini uno l'abbiamo atterrato c'è spadermino sicuramente che da qualche parte ok guardalo il vermiciatolo o ti venga a prendere cucciolino c'è un altro leggerino ma là dentro fermo immobile non capisco che diavolo vuole oddio non è spidey tranquillo siamo amici siamo tutti amici bravo spidey non mi sembra molto 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 non lo so che gli è preso un attimo di mancamento bello questo no non me la prendo non me la prendo lo so che adorate questa quest'arma leggendaria ma non me la prendo non me la sento scildini di esperienza ma soprattutto andiamo a scoprire che diavolo sta facendo quel playerino fermi immobile là sotto o là dentro per riferire perché si muove fermi per si muove si muove si muove quindi forse dove diavolo o mio dio che ansia no fermi che lo sento camminare questo ci fa un mega tentato dove diavolo dove ok è tutto sotto 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 e la giampaolo giampaolo ma è un bottasso credo sia un bottasso ma mi sembra strano però giampaolo salve a non è un bottasso è un bottasso playerino alle prime armi ok io lo andrei subito a killare non devi dare strani e vivoci calmo 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 io lo sapevo lo sapevo lo sapevo io c'è pure il fuoco o porca e si lascia sbricati 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 o mio dio ma tu guarda se dobbiamo morire contro solo le ieri no io lo sapevo quando sottovalutiamo i player avversari è sempre così che questo feromero è stabilizzando nobile io direi di fare una roba guardiamo fuoco e speriamo che sia il fato a killarlo però mi servono assolutamente le squazzette che sono sotto occhio altri player in i che sparano oddio c'è abbiamo dato fuoco a qualsiasi ma ancora li guardano e ferma è schifoso quasi si daci il premio daci il premio no è la tristezza la tristezza la tristezza signori miei amici del martedì ben ritrovati e oggi è un giorno di tristezza oggi è un giorno di lacrime senza gloria qualcosa di davvero triste per il mondo dei video giocatori ma soprattutto per il mondo dei video amatori di fornite perché dopo tanti martedì di festa di gloria di passione di scoperte di novità di news incredibili sembra essere arrivato quel giorno lì sembra essere arrivato il giorno in cui vedremo un martedì ufficialmente senza aggiornamento occhi che hanno buttato giù una eccolo infatti il fringuel in quest'anno ma perché perché sicuramente non è da solo un mio dio ma passano come se non fosse niente si plegierini ma non si accorgono che c'è una una cuor di pietra oppure che non ci credo abbiamo fatto il trick della vita abbiamo fatto guarda 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 no 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 bla 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 è il signor pomodoricchio che è fermo immobile cioè qui abbiamo fatto un trick assurdo fuoco fiamme e scompata sui reni let's go e amici miei mi raccomando all'interno del mega soggetti inserite assolutissimamente il codice più fresco del centro italia r4 sco e sembra proprio così quel giorno potrebbe essere arrivato oggi almeno che tra qualche oretta non si presenti qualcosa di nuovo proprio il momento non c'è niente official anche perché l'aggiornamento che avrebbero dovuto fare oggi sembra che lo hanno messo sabato insomma quando è uscita la mega ma che diavolo è quel coso è un quad volante quando sono andati a mettere la mega ma pozza di drake questi stanno fai dando tra ma che diavolo di fight ragazzi ma questo fenomeno fenomeno incredibile scappa con la macchina io vado a chillare oh 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 vi acciacca ma che diavolo ma quel testo è passato senza attaccare nessuno video fuoco video fuoco questa è benzina occhio 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 siamo troppo troppo fomentati dopo aver chillato con l'abbetto all'interno del garage un mio dio un colpo che abbiamo fatto un headshot clamoroso banana tu non te ne vai te lo dico te lo dico fin da adesso guarda quell'altro vivellino che mi voleva occhio che è bianco occhio che è bianco meno male questi che stanno spammata due ore si vado a prendere maledetti spammoni mistici dove ti ha questi stanno no i vermi del cespuglio i vermi 100 per cento del cespuglio noi per non sapere leggere e scrivere facciamo così vediamo che official no non ci sono super ragnatele di spider man o mio dio dove diavolo ma dove sono andati oddio ma non mi dire ma mi sa che proprio il vichingo che aveva super ragnatele ok si è messo dietro la montagna stanno sperando anche da quest'altra parte c'è un lutto bello gustoso che stiamo consumando una portata di materiali e quello mi sembra uno scanzone ma io ti vengo subito a prendere signorino c'è un lutto mistico qua dietro ma occupiamoci prima di quest'altro paliglierino dove diavolo è andato che è di qua di qua di qua scivolata scivolata e gusto scivolata e gusto molto molto buona oh no ma mi hanno restato anche la faccia ci sono i scagnozzi ci sono i scagnozzi molto bene li stanno attaccando questa potrebbe essere una situazione mistica dove potrebbero attaccare effettivamente anche a noi i scagnozzi occhio 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 spariamo tutti a quello lì anche gli scagnozzi no 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 è one hit quello è one hit bravo signor scagnozzo bravo signor scagnozzo li stanno ah no li hanno restato dove diavolo stanno andando sono tutti oh oh ma chi è che mi spara scagnozzi fate bravi io sono con voi io sono con voi ok stanno là davanti stanno là davanti un'altra macchina li sta andando a prendo oh mio dio mega fight mega fight nella foresta infestata basta scagnozzi mi dovete lasciare stare invece che sparare a me occhio sono quattro pelleglierini noi siamo in nove vediamo che diavolo stanno combinando uno scappa con la macchina al 100% io prendo il viscito con la macchina eccolo filato uno è la bananità di prima ok che l'ha della bananità calmi calmi signori calmi signori calmi signori occhio ci pensiamo dopo a quel fagiano meglio villare lo zio razzo zio razzo no zio razzo zio razzo zio razzo guarda bravo 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 spammami spammami piangata la mano zio razzo tu resta ti devi restare cucciolina buonanotte signor razzo guardi sono qui giusto per ricordargli una cosa che questo si chiama un bel tuffa in faccia o meglio pompa quasi sul sulla nocciolina ragazzi c'è qualcuno qui nell'aria venite venite fuori vi aspetto via ma non c'è signori qui sta succedendo qualcosa di strano non c'è ok eccolo 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 lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo quel 31 furbetto super poteri di spadere per loro per poter rispondere su loro ok cecchino per lui vediamo non ci prende non ci prende non ci prende o mio dio muore per cercare qualcuno non ho sentito per niente sto viscito ho dato fuoco a tutti gli albini del mondo quello si sta sviluppando potre un mio dio usa i super poteri spiderman in una maniera uber silenziosa ma come diavolo è possibile vado a prendere quel player io mi sembra tra i due il più scarso in assoluto però questo è contro tempo buone 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 buono vuole buttare giù tutto dove diavola e lo scazzone no 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 fermi che lo scazzone mi ha distrutto lo shield dobbiamo sentire dov'è il tizio con i super poteri di spiderman perché non lo sento proprio che vogliono buttare giusto vogliono buttare giusto vogliono buttare giusto è una roba scritta ma io gli scrivo questo in faccia ok lo cado 1 ok l'altro è lì speriamo che abbiamo o è quello o è quello col cecchino io lo vado a prendere io lo vado a prendere amici miei se è quello col cecchino occhio occhio no non te lo faccio restare no te lo faccio cosa 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 quella mano cosa quella ma ok probabilmente la già restata polero buonanotte tu hai uno di vita let's go mega win portata tom staremo a vedere se magari ci fanno una bella mega sorpresina tra poche ore oppure nel pomeriggio con magari un content upgrade silenzioso sottovoce tenebroso saremo a vedere ovviamente qualsiasi cosa esce per la portata sul canale quindi mi raccomando se ancora non è fatto iscriviti al canale con la campagna attiva ma soprattutto all'interno nega soggetti utilizza e inserisci il codice più fresco del centro italia r4 school troppa un bel like furbetto se ancora non è fatto e ora vi lascio due video bomba davanti il vostro schermo quindi mi raccomando andateli a vedere noi ci vediamo prestissimo con tante altre news e l'estra ciao